I biscotti di frorla montata sono semplici e facili da preparare per la colazione o da accompagnare al tè. Con un unico impasto riusciremo a realizzare 8 gusti diversi. Vediamoli insieme. Pensate ad una ciotola del burro, lo zucchero a velo, la vaniglia e montate con le fruste fida a rendere lo spumoso. Unite le uova e i tuorli e continuate a montare. A questo punto aggiungete la farina e mescolate bene. Dividete in due l'impasto. In uno unite la fegola e mescolate. Nell'altro unite il cacao e mescolate anche questo. Con il sac a poche dalla bocchetta rigata su una teglia con carta da forno, formate i biscotti, tipo i feri di cavallo, le lingue, le esse, gli occhi di bue. Farcite e decorate. Fate lo stesso lavoro anche con l'impasto al cacao. Una volta completati i vostri biscotti, riusceteli in forno statico a 190 gradi per 12 minuti. Una volta sfornati i biscotti, decorate a piacere con il cioccolato fondente, il cioccolato al latte, granella di nocciole, pistacchi e cocco. Che dite? Lo prepariamo un bel tè?